sono andati a svegliarlo sulla poltrona nella stanza di là se voleva vederla un'ultima volta prima che il coperchio fosse saldato sulla cassa ma è buio com'è no le nove e mezza del mattino ma oggi è spuntato così ci si vede appena il trasporto è fissato per le dieci guarda come un ebete mi pare impossibile che abbia dormito e tanto tutta la notte così bene ancora insordito dal sonno insordita dentro di lui la disperazione di quegli ultimi giorni quelle facce insolite di vicini attorno alla poltrona in quel barlume di giorno vorrebbe alzar le mani per difendersene ma il sonno gli è colato e gli si è fuso nel corpo come piombo benché già alle dita dei piedi gli sia arrivata chissà come una velleità di levarsi e subito cede deve inoltrarsi ancora disperato gli viene di dire per sempre ma lo dice come uno che si ricomponga sotto le coperte per rimettersi a dormire tanto che gli altri si guardano negli occhi senza comprendere che per sempre che il giorno si è spuntato così vorrebbe dir questo ma non ha senso il giorno dopo la morte il giorno del funerale così per sempre nella memoria con quel barlume che appena ci si vede e questo suo sonno mentre di là nella stanza della morta forse le finestre le finestre sì chiuse forse sono rimaste chiuse sarà ancora il lume caldo immobile nei grossi ceri sgocciolanti il letto portato via la morta a terra nella cassa dura e lividita tra quell'imbottitura di raso crema no basta la veduta richiude le palpebre sugli occhi che gli bruciano dal tanto piangere dei giorni scorsi basta ora ha dormito e con questo sonno è finito tutto smaltito sepolto tutto ora restare in questo rilascio di nervi in questo senso di vuoto dolente e beato chiudere chiudere la cassa e via con essa tutta la sua vita passata ma è ancora di là scatta in piedi vacilla lo sorreggono e con gli occhi chiusi si lascia trasportare fino alla cassa l'ali apre subito alla vista grida il nome della morta il nome vivo come gli solo in quel nome la può vedere e sentire viva tutta in tutti gli aspetti e gli atti della sua vita come fu per lui guarda con feroce rancore gli astanti che non possono saperne nulla e stanno a vederla lì morta com'è e potrebbero almeno immaginare che cosa significhi per lui restarne privo vorrebbe gridarlo ma ecco che il figlio accorre a strapparlo dalla cassa con una furia di cui egli subito sottintende il senso un senso che lo fa gelare come se si vedesse scoperto vergogna ancora coteste velleità fino all'ultimo e dopo che se ne è stato a dormire tutta la notte ora si deve far presto per non far più oltre aspettare gli amici invitati ad accompagnare in chiesa la salma va va di là si ragionevole papà con gli occhi cattivi e pur pietosi da povero se ne torna di là alla sua poltrona ragionevole già inutile gridare ciò che sorge dalle viscere e non trova senso nelle parole che si ridano tante volte neppure negli atti che si fanno per un marito che resta vedovo a una certa età quando ancora sa pur bisogno della moglie la perdita è forse uguale a quella di un figlio per cui è anzi una provvidenza restare orfano provvidenza sì provvidenza in procinto com'è di sposare appena trascorsi tre mesi di lutto stretto con la scusa che ora per tutti e due c'è bisogno di una donna che subentri al governo della casa pardi pardi chiamano forte nella saletta d'ingresso e si sente gelare vie più avvertendo ben distintamente per la prima volta che non chiamano più lui con quel cognome che è il suo ma il figlio e che quel cognome resta vivo ora per il figlio e non più per lui e lui invece sciocco è andato a gridar vivo di là il nome della mamma come una profanazione vergogna sì sì velleità inutile lo riconosce lui stesso dopo quel gran sonno che l'ha liberato di tutto ora veramente la cosa più viva in lui è la curiosità di vedere come sarà la sua casa come gliela trasformeranno dove lo faranno dormire il letto grande a due intanto portato via forse in un lettino già in quello del figlio il lettino ora per lui e il figlio domani nel letto grande da trovarsi accanto la moglie sporgendo il braccio lui dal lettino il braccio lo sporgerà nel vuoto è tutto indolenzito e con una gran confusione nel capo e la sensazione già di quel vuoto dentro e fuori di lui l'indolenzimento del corpo proviene dallo star seduto da così lungo tempo se fa tanto ad alzarsi è sicuro che in tutto quel vuoto ormai si solleverebbe leggero come una piuma non ha più nulla dentro di sé ridotta a niente la sua vita poca differenza tra lui e quella seggiola là anzi quella seggiola può anche parer soddisfatta sulle sue quattro gambe mentre lui i suoi piedi non sa più dove posarli né che farsi delle sue mani a chi importa più la sua vita ma nemmeno a lui quella degli altri eppure la sua vita dato che gli è rimasta deve seguitare ricominciare una vita a cui non può ancora pensare a cui certo non avrebbe mai più pensato e gli fossero rimaste le condizioni in cui già sarà chiusa ora buttato fuori così tutta un tratto non ancora vecchio e non più giovane sorride scrolla le spalle per suo figlio tutta un tratto è diventato come un bambino ma dopo tutto si sa che avviene quasi sempre così i padri che diventano figli dei propri figli cresciuti che han preso mondo e si sono fatti più avanti del padre una posizione più importante che permette loro di tenere il padre in riposo per ricompensarlo di quanto ne ebbero da piccoli ora che gli a sua volta è divenuto di nuovo come piccolo non gli hanno assegnato nemmeno la cameretta in cui prima dormiva il figlio ma un'altra quasi nascosta sul cortile con la scusa che là sarebbe più appartato e libero di fare il comodo suo col meglio dei suoi mobili disposti in modo che a nessuno potrebbe venire in mente che quella sia la cameretta dove gli prima teneva la serva nelle stanze poste sul davanti sono entrati mobili nuovi pretenziosi e nuovi arredamenti perfino lusso di tappeti non c'è ormai più traccia delle sue vecchie abitudini nella casa così tutta rinnovata e anche i mobili vecchi i suoi nelle stanzette oscure dove sono stati relegati così come ora li hanno disposti pare che non sappiano come intendersi tra loro eppure strano nel disprezzo in cui con essi si vede caduto non riesce ad aversi a male non solo perché ammirando le stanze rimesse a nuovo prova pure una bella soddisfazione per il figlio ma anche in fondo per un altro sentimento che non gli è ancora ben chiaro di un'altra vita che con la prepotenza degli aspetti nuovi così tutta lustra e colorita ha cancellato perfino il ricordo della vecchiaia anche di nuovo che può anche rinascere in lui di nascosto senza farsene accorgere lo intravede come dallo spiraglio luminoso e sconfinato ad una porta che gli si sia aperta alle spalle e gli è venuta negli occhi una luce che ricolorandogli tutto lo fa passare di meraviglia in meraviglia veramente come se fosse ridivenuto bambino gli occhi come li aveva da piccolo vispi aperti su un mondo che gli par tutto nuovo ha preso a uscire di mattina proprio per iniziare le vacanze che dureranno ormai tutto il tempo che gli durerà ancora la vita spogliato di tutte le cura se accordato col figlio su quanto lascerà ogni mese della pensione per il suo mantenimento poco vorrebbe lasciare tutto per essere più leggero e non avere tentazioni non ha bisogno di nulla ma il figlio dice non si sa mai qualche desiderio ma no e di che gli basta soltanto vedere così da fuori la vita scrollato d'addosso il peso di tutte le esperienze coi vecchi non sa più farsela li sfugge coi giovani non può perché lo considerano vecchio se ne va alla villa dove ci sono i bambini ricominciare la vita così coi bambini sull'erba dei prati dove è più alta e così folta e fresca che stordisce con le brezza del suo odore i bambini vanno a nascondersi rispariscono lo scroscio perenne di un'acqua che scorre coperta non fa avvertire il fruscio delle foglie smosse ma presto i bambini si dimenticano del gioco si denudano i piedini eccone la uno rosio in mezzo a tutto quel verde chissà che delizia immergere i piedi nel fresco di quell'erba nuova si prova a liberare un piede anche lui di nascosto sta per slacciare la scarpa dell'altro allorché gli scorge davanti tutta accesa in volto e con gli occhi fulminanti una giovinetta che gli grida vecchio porco riparandosi subito con le mani le gambe poiché egli la guarda da sotto in su e cespugli ne hanno un po' sollevato il vestitino davanti resta come pasito no che ha creduto è scomparsa lui voleva prendersi un piacere innocente si copre con tutte e due le mani il piede nudo indurito che ci ha visto di male perché vecchio non può più provare il gusto che provano i bambini a denudarsi i piedi sull'erba si pensa subito al male perché è vecchio e lo sa che da bambino lui d'un balzo può diventare anche uomo è ancora uomo uomo ma non ci vuol più pensare non ci pensava era proprio come un bambino nell'atto di togliersi le scarpe che infamia ingiuriarlo così vigliacca e si butta con la faccia a terra sull'erba tutto il suo lutto e la sua perdita e che non ha più nessuno e che perciò ha potuto ridursi a far quel gesto interpretato come dissu dice malizia tutto gli rinvia in su come un rigurgito amaro stupida se lo volesse fare gliela ammette anche il figlio qualche desiderio ha in tasca il denaro per questo stravolto dallo sdegno si tira su con le mani che gli ballano si rimette vergognoso la calza la scarpa il sangue gli è tutto montato alla testa e gli occhi gli sbattono truci lo sa dove andare per questo lo sa ma poi per via si placa e se ne torna a casa tra quella confusione di mobili che par fatta apposta perché gli dia di volta il cervello va a buttarsi a letto con la faccia al muro grazie a tutti